Io le farò vedere delle immagini, che non hanno un significato preciso, e lei mi dirà quello che vede. Ma sembra un... cooperazione internazionale allo sviluppo? Grazie. Diritti delle donne? Antirazzismo, no? Turismo responsabile, sostenibilità ambientale. Dottoressa, tutto bene? Interessante perché lei ha dato risposte diverse, ma l'immagine era sempre la stessa.